E' tutto pronto per la quattordicesima edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico in programma Bisceglie dal 25 al 27 agosto con eventi collaterali il 24 agosto, il 2 e il 17 settembre. Una festa della cultura e della letteratura che coinvolge 140 autori, 50 case editrice e migliaia di appassionati che ogni anno affollano le vie e le piazze del centro storico biscegliese. Nelle splendide piazze del centro storico e sul porto Bandiera Blu il pubblico, oltre a conoscere gli autori, potrà anche farsi coinvolgere dall'entusiasmo di 400 giovani volontari. I principali temi affrontati quest'anno riguarderanno la discriminazione in ambito economico, parlo di discriminazione di genere con l'economista Azzura Rinaldi. Parleremo di attualità con l'inviato del Corriere della Sera, inviato di guerra Andrea Nicastro, con Marcello Veneziani, con Antonio Padellaro, con l'irriverente conduttore di Radio 24 Giuseppe Cruciani. Parleremo di sud e di bellezza con Stefania Auci, ospiteremo Paola Barale alla pubblicazione del suo primo libro che affronta le difficoltà del mondo femminile. Avremo insomma molti temi, tutti di attualità e tutti di grande interesse. Leggo a volte anche qualche polemica sull'utilità o meno dei festival letterari. La risposta delle case editrici secondo me è la risposta a questo tipo di polemica. I volontari sono più di 300 quest'anno, una parte di loro seguono uno specifico percorso di formazione. Inizia a giugno, quindi con la fine dell'anno scolastico e culmina con i tre giorni del festival. Seguono un percorso di avvicinamento alle professioni culturali, quindi incontrano dei professionisti che hanno appunto a che fare con il mondo culturale. Incontrano scrittori, gestori di cinema, direttori di biblioteche e nei tre giorni del festival alcuni di loro moderano anche gli autori e quindi alla fine concludono questo percorso proprio incontrando e dialogando con l'autore. Questo ci ha anche permesso di avere dei ragazzi che al termine del percorso hanno proprio scelto di rimanere con noi in pianta stabile con la nostra organizzazione. Per noi sicuramente è un grande motivo di soddisfazione. Per Regione Puglia è un evento importantissimo perché promuove la lettura ed è uno degli obiettivi della Regione Puglia che l'ha dimostrato attraverso anche l'istituzione delle community library. Non dimentichiamo che la Regione Puglia ha investito ben 219 milioni di euro per ripristinare alcuni luoghi che potessero diventare dei luoghi non solo di lettura ma di incontro per i giovani. Noi abbiamo la necessità di recuperare questo gap, abbiamo pochissimi lettori soprattutto tra i giovani i quali molto spesso leggono e non comprendono neanche il testo. Quindi questi eventi fatti in questo modo dove portiamo fuori per le strade i libri, la possibilità di incontrare gli autori, la possibilità di conoscere nuovi testi ci dà l'opportunità di raggiungere due obiettivi, di recuperare i lettori e di aiutare i giovani editori pugliesi, scrittori pugliesi.